Ecco, mettiti qua nella tua poltrona. Qui dici? Qua. Eccomi qua, mi metto qua adesso. Ah, finalmente. Vieni. Ah, 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 alleluia. Leggiti il tuo giornale in santa pace. Eh, certo. E non di nascosto come facevi in ufficio. Ma è chiaro, no? Eh, finalmente. Grazie, eh. Ti lascio tranquillo. Sì, grazie. Sono io, Ugo. Eh, lo so, Pina. Scusami, sai, ma sono i condizionamenti. D'altronde, sai, vent'anni di gioco non si cancellano. Così con un colpo di spugna. Ti passerà, ti abituirai. Speriamo. Su, riprendi il tuo giornale ora.